vediamo il primo pesce di sessione, un bellissimo Amur adesso andiamo a rilasciare prima che mi fa il bagno, tanto il bagno già lo sappiamo che me lo farà eccolo qui, un bellissimo Amur, vediamo il rilascio quando vuoi ripartire, quando vuoi, quando riparte mi fa il bagno sicuro, zoom Amur un pochino se vuoi quando riparte tanto già so che mi farà il bagno eccolo ecco